Vediamo le polarità magnetiche Provo a fare così Ok Ok, che così si nota, perfetto Perfetto No, 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 ok, così, chiudere Adesso lascia tenere le tue sensazioni Adesso Anna potrà attestare Con l'esercito Adesso la moda Adesso Anna potrà attestare Con l'esercito con le due mani alternativamente la parte destra reagisce differentemente Hana adesso testa alla sinistra la parte destra 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è un punto di sensibilità, i punti di sensibilità sono punti sui quali possiamo successivamente lavorare. Buonasera! Direi che potresti risvegliarla adesso. Fai un po' di terapia oppure fare una catalessina. Vediamo un attimo. Sennò sta... Va bene, perfetto. Come ti senti? Cosa è successo? Molto caldo, sudorazione. E poi? All'inizio ho avvertito un grosso calore sul viso. Poi c'è stata una sensazione di freschezza verso l'alto e questo caldo che arrivava sulla parte del viso. Dopodiché la sudorazione ha cominciato a prendermi anche il collo. C'è stato un attimo in cui nel dondolarmi ho sentito alzarmi questa gamba. Cioè non riuscivo a... Avevo l'esigenza di sollevare questa gamba destra, la mia gamba destra. Dopodiché mi sono riposizionata. E poi ancora questa sensazione di sudorazione che piano piano si è un po' normalizzata. Dopodiché ho sentito un grosso respiro di proprio rilassamento. Bene. Questa è la sensazione che ho sentito. Ottimo. Tutto benissimo.